conciso che c'è che c'è che c'è ma prima ho sentito bene a ti sta partendo la brocca o cosa ho sentito che stavi prendendo le parti alle forze dell'ordine caro giuseppe ma se hai facendo da vicino a me ma che le parti ho detto semplicemente viva sempre le forze dell'ordine ma viva sto cazzo ma levete da vicino a me ma perché ti sei messo hai tolto una tenda un tappeto cos'è ma io non ho capito una cosa non si può prendere scusami se devo fare scusami devo fare una figura di merda guarda che ce la fai quando esci da casa non ti preoccupa basta che esci da casa la figura della merda la fai da solo comunque vergognati sulle forze dell'ordine mio nonno dottor sebastiano caraccio lui è stato questore di cremona mamma mia questore di cremona è tristessa che famiglia d'infami la famiglia di questore di cremona io non ho capito una cosa se i ragazzi in piazza innanzitutto presentiamo massimiliano minocci detto il brasiliano applausi applausi se qualcuno dovesse guardare la tua fedina penale per riassumere il punto oggi è il 18 novembre 18 novembre che cosa trova? tentato omicidio estorsioni porta abusivo d'armi niente di che tentato omicidio perché dicevano che io avevo sparato a uno ma non voglio sapere perché uno apre io voglio dire solo questo uno apre ad oggi 18 novembre uno apre un file si chiama il casellario giudiziario che cosa trova nel casellario? tanti tanti precedenti di polizia che cosa vuol dire? aggressione oltraggio a pubblico ufficio sono solo aggressioni e violenza a pubblico ufficiale rapine man armate? rapine man armate no però ho tentato omicidio estorsione porta abusivo d'armi spaccio di cocaina spaccio internazio c'è un po' tutto ma fatteli cazzi ma che cazzo? ma quante cose trovi che lo stampa cosa fai? è aggiornato a quando? si è aggiornato al 2024 comunque è curioso una volta devi venire qua lo possiamo stampare dietro di te lo stampiamo lo stampiamo ma tu quanti avvocati hai? io ce n'ho tre 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 avvocati uno si sono suicidati? no più che altro gli ho fatto fei e ville questi sono suicidati sto cazzo gli ho fatto fei e ville io ho fatto se sono suicidati ma tu che te dovresti suicidare ma noi di che fascia che c'hai con sta fascia te dovresti suicidare sei stanco sei stanco se no ti vedo ti vedo un po' un po' provato però scusa c'erai tre uno per lo spaccio uno per spaccio uno per i reati un po' più grandi per estorsioni queste cose qua sì perché spaccio e l'altro e l'altro aspetta mio figlio mi dice papà mi fai un video di quel il coglione del Brasile ma il coglione destro il coglione sinistro ma come fa a sapere che c'è però scusami sta sentendo la radio però scusami un attimo massimiliano allora la cosa fondamentale che cos'è qua sta è parente dopo chiamatemi parente massimiliano parente scusami un attimo una cosa allora tu c'hai tre avvocati uno per le cose più gravi uno per lo spaccio uno ce l'ho per le estorsioni per queste cose per le sparatorie per queste cose qua e l'altro ce l'ho appunto per i precedenti di polizia che cosa vuol dire quando quando imbruttisco una guardia che magari può succedere che me bevo una cosa o che do due bottarelle diciamo vado su di giri può essere pure che mi attacco con carabiniere con poliziotto io chiamo subito il mio avvocato in batter d'occhio come se fosse per magia il brasiliano è fuori io faccio pure uuu e vado fuori scusa ma tu non hai paura quando guardi il tuo casellario giudiziario non hai paura ma che ho fatto nella vita che ho fatto no ho fatto ho fatto bene Giuseppe ma no non hai fatto bene qualche sottopo lo so pure levato no allora ascolta caro Parenzo tu ti specchi e dici io sono Parenzo David questo è il tuo casellario giudiziario il casellario giudiziario del tuo papà mio papà c'è poverino ma perché c'è solo spazio e spazio internazionale e la tua mamma adorata? c'è solo spazio pure mia mamma pure la mamma allora loro si sono specializzati allo spazio di cocaina diciamo ero io quello lì che ero diciamo polivalente io che facevo recuperi sparavo da destra a sinistra non ce l'hai magari un cugino lontano? c'ho tutti i cugini professore universitario della normale di Pisa a Oxford no 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 non ce l'hai no un laureato non ce l'hai? no laureato ma che si sa male? manco un diplomato un diplomatico c'ho c'ho i diplomatici al frigorifero c'ho e i passarelli c'ho i diplomatici c'ho i diplomatici andando indietro degli altri a ritroso si dice bravo ce n'è uno che ha fatto una cosa onesta onesta? l'homo sapiens no la scimmia ma della mia famiglia diciamo una cosa onesta l'ha fatta mia madre quando faceva diciamo che veniva e ne dava la roba buffo quella è una cosa onesta la roba buffo se dice tu c'hai i soldi e io ti dava la roba buffo mi padre mi madre ma indietro il nonno il nonno faceva le rapine Morello senza la gamba pure il nonno faceva le rapine ma porca troia i fascisti ascoltarmi il papà del nonno nell'800 che faceva? agli assalti e la diligenza davano che cazzo facevano? gli Air Far West non lo so ti dico la verità mio nonno c'aveva pure una gamba di meno quindi quando scappava lo chiamavano zoppo perché quando scappava 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 con la gamba di legno soppicava con la gamba di legno una volta si è perso pure la oh ma te giuro su infamità una cosa pazzesca si è perso pure la gamba per scappare una volta Morello li hanno tirate ai guardi a proposito di cocaina queste sono le grandi storie di famiglia quanti giorni sono che non consumi? che ci raccontiamo davanti al cammino a Natale a Natale quanta roba ha spacciato? 20 giorni amico mio 20 giorni 20 giorni l'ultima volta ci siamo sentiti se no sono 7 7 14 e 1 15 giorni perché mi ha invitato 3 lunedì 15 giorni che non te fai non me faccio niente Giusella la mente è molto vedi come sono pimpante pure Ruffini mi ha detto ma come è possibile stai a 2.000 ho capito Ruffi io sto a 2.000 perché sei abituato a sta a 2.000 sei abituato allora sei intorno a un tavolo perché c'è un attore un attore tale Edoardo Leo che ha fatto tale Edoardo Leo che ha detto io sono fissato con questa cosa che poi ha fatto anche un film tra l'altro ha fatto anche un film che ha detto quando una ragazza passa davanti a un tavolo di 4 maschi viene fissata come carne da macello ma lui è gay? no non è gay io se sto a quel tavolo me ne vado cioè non si possono guardare bene le donne e quindi tu quando una donna passa e torna al tuo tavolo io dico massa che bucio di culo se vuol dire no? no io me la guardo allora no a parti scherzi questo è un appello che faccio a oggi oggi se tu vai in giro e il culo più brutto c'è l'apparenzo che cosa vuol dire? nel senso che no per farti capire che le donne oggi è difficile che ci hanno i culi brutti quindi se te passa una che sciambe il culo ma massa che bucio di culo questa cosa si ma non è così ma lo puoi anche dire ma certo alle donne piace ma no ma lui sicuramente ha fatto sta cazzo d'uscita perchè mo ha fatto le firme e se sta a fare una messa ma fatteli cazzi no ma un po' c'ha ragione un po' c'ha ragione ha fatto sta messa manchetta ma tu devi imparare l'educazione ma tu devi imparare a fatteli cazzi tu a me che se con quella faccia se dici una cosa così una donna una donna si impaurisce e ha diritto a denunciarti ma tu stai davvero qui con questa faccia lui dice che se ha una donna lui dice scusami massimità se lui dice se tu sei a un tavolo e dice a una donna vedi che fregna che bucio del culo si ma glielo dirai poi dopo ci fa un po' più di confidenza magari è il dittino pure magico il dittino magico sai il significato della parola patriarcato patriarcato vuol dire quando sa la comandano i padri Parenzo viene da una famiglia di patriarcato cioè quando sa la comandano gli uomini quando sa la comandano no ma guarda è pure giusto diciamo in qualche modo nel senso che la donna diciamo che la donna no a casa mia perché c'è c'è la parità pure oggi però per me deve passare folletto e dovrebbe far sugo che è spuntatura adesso questo no vabbè però anche che amica è l'infamità ma la donna ma perché è l'infamità la donna dovrebbe passare folletto ma la donna si è evoluta io ti chiedo scusa hai mai sentito parlare di Rita Levi Montalcini tu si qua la vecchia no no è morta è morta premio Nobel per la chimica premio Nobel premio Nobel scusi mi fate quel numero di telefono Margherita che l'hai mai sentita a nominare Margherita un'altra vecchia la secondo te che cosa porterà l'elezione di Trump l'elezione di Trump che cazzo l'Ucraina sta impicciata la fracica cioè questo è interessante come analisi l'Ucraina starà impicciata l'Ucraina starà impicciata l'Ucraina starà impicciata la fracica è finita la pacchia per l'Ucraina guarda te la posso dire una cosa chiamiamo l'ambasciata Ucraina gli dimo che sta finita la pacchia quelli stanno combattendo per la libertà pronto? chi è? chi è? chi è? Boboschi eh salute asci tu magari mori Boboschi eh per affari consolari si prega di chiamare il numero di telefono combattete Zaleschi vabbè che messaggio vuoi dare Zaleschi è finita la pacchia Zaleschi scusa è finita la pacchia Zaleschi ultima domanda chi è? giù 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 ultima domanda ultima domanda cosa preferiresti tra un figlio gay e un figlio poliziotto? mamma mia non lo so Giuseppe Di Gavri no mamma le domandascia mamma mia Giuseppe pensiamo pure da Alassio no? aspetta 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 un minuto io ti dico bello te papà ti rispondo così e tu capisci ti dico bello te papà almeno usa le protezioni mettete un po' di vaselina papà mi raccomando dunque gay dunque gay tutta la vita guardiano guardiano guardia c'hai un figlio che ti chiede voglio entrare all'accademia meglio un figlio col culo rotto che un figlio poliziotto vedi questo è uno stricione allora il brasiliano dice è meglio un figlio col culo rotto che un figlio poliziotto grazie fermi tutti grazie benvenuta l'allergia al brasiliano bella qui che stavo stavo in spot la grande cantina è la grande cantina è grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti